La Cerdegna spalanca le braccia ai turisti e agli arrivi per questa stagione che dobbiamo gestire in maniera ottimale, sia sotto il profilo logistico sia sotto il profilo della sicurezza sanitaria. Non esiste alcuna quarantena per i turisti. La quarantena è riferita soltanto alle persone che arriveranno fino al 2 giugno, data fino alla quale non è consentito il transito tra regioni e quindi non esiste flusso turistico. Dal 3 giugno riapriremo i voli progressivamente fino ad arrivare alla piena operatività al 25 con tutti i voli internazionali. Chiediamo soltanto una piccola cautela in più, munirsi di un certificato di negatività rispetto al virus perché la Sardegna che ha spento la circolazione virale vuole rimanere sana per i suoi abitanti e per i turisti che deve ospitare. Venire in Sardegna significa poter arrivare sani e ripartire più sani perché si potrà fare una vacanza nel pieno senso del termine senza dover avere misure particolarmente stringenti durante tutto il corso della permanenza.